Ciao a tutti, perché un uomo si allontana? Quelle sono le motivazioni che possono far sì che un uomo si allontani da te, che voglio prendere le distanze, che non voglio più avere una relazione? Beh, appartengono a due grandi famiglie, diciamo, appartengono alla famiglia delle emozioni e alla famiglia della razionalità, come tutto nella nostra vita. Alcune volte anche alla sfera dell'istintualità, potremmo dire sì, tra i grandi famiglie. Beh, la sfera dell'istintualità è quella collegata all'aspetto sessuale, in cui non c'è più un coinvolgimento di natura sessuale, fondamentalmente. Però questo è, alle volte spesso, come dire, è l'effetto, però la causa è una causa emotiva o addirittura una causa logico-razionale. Comunque la mancata di sessualità sta spesso appunto quando è una causa emotiva, sta nell'identificazione, cioè identifichi la persona come un parente, emotivamente lo vedi come la mamma, lo vedi come il papà, la nonna, il fratello, la zia, qualunque cosa, e quindi decade, diciamo così, l'aspetto attrattivo, perché subentra una sorta di tabù dell'incesto. In alcuni casi, invece, la mancata sessualità è semplicemente dovuta all'abitudine, alla routine, per cui anche qua si potrebbe ragionare sopra per, invece, per riuscire a ristabilire un'attrazione sessuale. Da questo punto di vista sarebbe molto più semplice. Abbiamo poi a che fare con delle cause di natura emotiva, che sono proprio il fatto che con la persona non riesci più a vivere delle tensioni emozionali. Non riesci più a vivere delle tensioni emozionali perché è diventata fondamentalmente un'abitudine, non c'è mai pathos, non c'è contrasto. La nostra parte emotiva è una barchetta che ha bisogno di un mare mosso, non di un mare calmo. Se tu la fai viaggiare sempre su un mare calmo, per sempre, per sempre, per sempre, poi significa che questa barchetta, insomma, paradossalmente affonda, piuttosto che sta regalla. E allora bisogna reinserire nuova linfa vitale, bisogna reinserire nuova vitalità per riuscire a rivitalizzare. Insomma, in questo caso degli antagonisti, anche trasgressivi, sono molto utili. Poi c'è il caso che un uomo sa lontana perché, diciamo, non ti vede come la donna giusta fondamentalmente, non ti vede come la donna giusta per lui e qua per diversi motivi. Potrebbe essere che l'è condizionato dall'esterno, ad esempio gliel'ha detto la mamma e quindi se lui sente il condizionamento, se sente il... di essere... cioè, se subisce il condizionamento, ad esempio il genitoriale, la mamma dice, no, guarda, questa non va bene perché non è proprio la donna giusta per te, secondo me, bla bla bla, eh, può darsi che si allontani. Oppure potrebbe essere, ad esempio, il fatto che lui, con il suo pensiero, non ti vede la donna giusta perché magari, che ne so, ha sempre sognato una donna di un certo tipo, laureata, per dire, con una certa cultura e tu invece hai la terza media e quindi non vai bene per il suo cliché. Oppure potrebbero essere gli amici, insomma, comunque sono dei motivi che possono essere qualunque di natura logica e razionale, economica, ad esempio anche qua, magari amici, parenti, tu sei benestante, sei questa stracciona, una poveraccia, cosa ti metti in casa una così, vuole solo sfruttarti, insomma, sono tutti i ragionamenti che possono essere fatti. Quindi, a quel punto lì devi riuscire a, diciamo, andare a distrutturare in qualche modo, a fargli capire che non è così come pensa lui, se ci sono persone che, importanti, che lo dicono al tuo posto è molto meglio perché, come dire, riescono a creare un condizionamento positivo, visto che questa è una persona condizionabile. E bisogna fare tutto un lavoro per riuscire a ristabilire una certa soluzione, diciamo, a questo problema logico e razionale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!